Hola a tutti, mi chiamo Nicola Rena, sono il vicepresidente dell'Associazione Sentieri di Grimoaldo e mando un grande saluto a Marco Turra e a tutti gli amici dell'Assemblea Nazionale dell'Autogobierno. Noi in Italia stiamo lavorando per realizzare un progetto molto importante che è il progetto Auri che mira a dare dignità a tutti gli esseri umani e quindi alla piena sovranità monetaria e poi alimentare, energetica eccetera. Utilizziamo uno strumento che si chiama Auri che è di proprietà del portatore. Sperando che anche voi in Messico presto utilizzate il progetto Auri, noi siamo pienamente disponibili a offrire il nostro supporto e vi auguriamo veramente un gran bene e una grande opportunità per tutti noi poter collaborare con voi per la realizzazione di questo grande progetto insieme anche in Messico. Quindi buona sovranità a tutti. Ciao, ciao a tutti.